Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, vieni Divina Volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutte e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria ti amo nella Divina Volontà, Regine Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con i spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo Regno, ammetti i miei figli in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò sovrana Regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel Regno del Volore Divino e stretto la tua mano materna a vivere tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e poi a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà perché me la scambi con la Divina Volontà e così io posso restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Ciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio cosa significa Volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Scegli, scendi, sopra l'uole. Vieni, vieni, vieni a regnare tra noi, Gesù conquista tutti, vinci in un vangole, affinché il tuo figlio regni sulla terra. Mi fondo in te, nel tuo volere, Gesù. Affinché il tuo figlio regni sulla terra, mi fondo in te, nel tuo volere, Gesù. Scegli, scendi, supremo volere, vieni, vieni a regnare tra noi, Gesù conquista tutti, di cui vincere la tua save. Vinci in un vangole, affinché il tuo figlio regni sulla terra, mi fondo in te, nel tuo volere, Gesù. affinché il tuo figlio regni sulla terra, il fondo in te nel tuo volere in Gesù. Dal Libro di Cielo, volume 8, 16 dicembre 1908, capitolo 54. Passando giorni amarissimi, stavo lamentandomi con il nostro Signore dicendogli come crudelmente mi hai lasciato. Mi dicevi di avermi eletto come tua figlia piccola, di dovermi tenere sempre nelle tue braccia, e adesso mi hai gettato per terra e invece di piccola figlia vedo che mi hai cambiato in piccola martire, ma per quanto piccolo il martirio è altrettanto crudele e duro, amaro ed intenso. Mentre ciò dicevo si è mosso nel mio interno e mi ha detto, figlia mia, tu ti sbagli, non è mia volontà di renderti piccola martire, ma grande martire. Se ti do la forza di sostenere con pazienza e rassegnazione la mia privazione, che è la cosa più dolorosa, più amara che trovarsi possa. E in terra e in cielo non c'è altra pena che le guagli e che le rassomigli. Non è questo eroismo di pazienza ed ultimo grado di amore, dove tutti gli altri amori rimangono dietro, restano quasi annullati, e non c'è chi adesso possa paragonarli e stargli di fronte. Non è questo dunque grande martirio? Tu dici di essere piccolo martire perché ti senti di non soffrire tanto. Non è che tu non soffra tanto. È il martirio della mia privazione che ti assorbe le altre pene facendole anche scomparire, perché pensando che sei priva di me, né curi né badi alle altre tue sofferenze, e non badando giungi a non sentirne il peso, perciò dici che non soffri. Poi non ti ho gettato per terra, anzi ti tengo più che mai stretta fra le mie braccia. Anzi, ti dico che se a Paolo diedi la mia grazia efficace al principio della sua conversione, a te la do quasi di continuo, ed il segno è questo, che segui nel tuo interno tutto ciò che facevi quando io ero con te quasi di continuo, facendo ciò che ora pare che tu fai da sola. Quel sentirsi tutta immersa e legata con me, pensare sempre a me adonta che non mi vedi, non è cosa tua né grazia ordinaria, ma speciale ed efficace. E se assai ti do, è segno che assai ti amo e assai voglio essere amato da te. Capitolo 55, 25 dicembre 1908 Trovandomi nel solito mio stato, stavo desiderando il bambinello Gesù, e dopo molti stenti si è fatto vedere nel mio interno da piccolo bambino e mi diceva, figlia mia, il modo migliore per farmi nascere nel proprio cuore è vuotarsi di tutto, perché trovando il vuoto posso mettervi tutti i miei beni, e da allora posso rimanervi per sempre, se c'è luogo per potervi trasportare a tutto ciò che mi appartiene, tutto il mio in essa. Una persona che andasse ad abitare in casa di un'altra persona, allora si potrebbe chiamare contenta, quando in quella casa trovasse vuoto per poter mettere tutte le cose sue, altrimenti si renderebbe infelice. Così sono io. La seconda cosa per farmi nascere e accrescere la mia felicità, è che tutto ciò che l'anima contiene, sia interno che esterno, tutto deve essere fatto per me, tutto deve servire per onorarmi, per seguire i miei ordini. Se anche una sola cosa, un solo pensiero, una parola non è per me, io mi sento infelice e dovendo far da padrone mi rendo uno schiavo. Posso io tollerare tutto questo? La terza è amore eroico, amore ingrandito di sacrificio. Questi tre amori faranno crescere in modo meraviglioso la mia felicità, perché l'anima si esibisce ad opere superiori alle sue forze, facendole con la sola mia forza. Ingrandiranno la mia felicità col fare che non solo essa, ma anche gli altri mi amassero, e giungerà a sopportare qualunque cosa, anche la stessa morte, per poter trionfare in tutto e potermi dire non ho più niente, tutto è solo l'amore per te. In questo modo non solo mi farà nascere, ma mi farà crescere e mi formerà un bel paradiso nel proprio cuore. Mentre ciò diceva, io lo guardavo e da piccolo in un istante si è fatto grande, in modo che me ne restavo tutta riempita di lui e tutto è scomparso. Stavo il 27 dicembre 1908, capitolo 56, stavo meditando quando la mamma regina dava il latte al bambino Gesù e dicevo tra me, ma che poteva passare tra la mamma santissima e il piccino Gesù in questo atto? In questo momento me lo sentii muovere nel mio interno e mi sentii dire, figlia mia, quando succhiavo il latte dal petto della mia dolcissima madre, unito al latte mi succhiavo l'amore del suo cuore, ed era più amore che succhiavo che il latte, ed io, come in quei succhi sentivo dirmi, ti amo, ti amo figlio, io ripetevo a lei, ti amo, ti amo mamma. Io non era solo in questo, al mio ti amo il Padre e lo Spirito Santo e la creazione tutta, gli angeli, le stelle, il sole, le gocce, l'acqua, le piante, i fiori, i granelli di sabbia, tutti gli elementi correvano appresso al mio ti amo e ripetevano, ti amiamo, ti amiamo madre del nostro Dio nell'amore del nostro creatore. La mia madre vedeva tutto ciò, ne restava inondata, non trovava neppure un piccolo spazio dove non si sentisse dire che io l'amavo, il suo amore ne restava indietro e quasi solo ripeteva, ti amo, ti amo, ma mai potevo guagliarmi perché l'amore della creatura ha i suoi limiti, il suo tempo, mentre l'amore mio è increato, interminabile, eterno, e questo succede ad ogni anima quando mi dice, ti amo, anch'io le ripeto, ti amo, e con me è tutta la creazione ad amarla nel mio amore, o se le creature comprendessero qual è il bene, l'onore che si proponono anche solo col dirmi ti amo, basterebbe solo questo, che un Dio al loro fianco replica con l'onorarne, anch'io ti amo. Siamo alla vigilia di Natale, abbiamo avuto la grazia anche, la Dio incidenza di meditare proprio un passaggio che Gesù ha fatto conoscere a Luisa proprio del 25 dicembre, del 1908, quindi siamo in pieno clima natalizio perché appunto il Capitolo Centrale verte proprio sul come far nascere Gesù nel proprio cuore, ma è tutto quello che abbiamo un pochino letto che ci mette in questo clima. Primo paragrafo, Gesù ricorda a Luisa ciò che lei già sa, per un'anima amante il dolore più grande è la privazione dell'amato e la privazione di Gesù per quanto abbiamo visto piano piano Luisa comincia gradualmente a viverla sempre più perfettamente, quindi in unione con il Fiat Supremo quando Gesù le toglie, diciamo, la sua presenza sensibile e rimane comunque la privazione più grande di tutti, la sofferenza più grande di tutti. Luisa si pezzeggia dicendo mi fai la tua piccola martire Gesù dice no no, grande martire perché sopportare con pazienza l'assenza di Gesù è il martirio più doloroso, non solo che è il più doloroso, ma come dire dà la percezione di non vivere tutte quante le altre sofferenze della vita sappiamo che Luisa se ne aveva di quotidiane perpetue perché sono assorbite da questa che è la più grande di tutti e vissuta appunto eroicamente da Luisa. Ecco, la cosa bella, lo step ulteriore che Gesù ha fatto fare a quest'anima e che è quello che noi analogicamente possiamo e dobbiamo vivere è continuare a fare le stesse cose che Luisa faceva quando vedeva Gesù e lo sentiva nel momento in cui invece non lo vedeva e non lo sentiva più. La frase di Figante è questa, quel sentirti tutta immensa e legata con me pensare sempre a me è tonta che non mi vedi non è cosa tua né grazia ordinaria ma speciale ed efficace. Questa è la grande grazia che dobbiamo chiedere al Signore e a cui dobbiamo disporci perché è relativamente facile amare, servire il Signore fare opere buone quando ci sentiamo consolati appunto fervorosi ripieni della sua presenza seppure certamente in modo diverso da come l'avvertono chi hanno coloro che hanno insomma con i straordinari di percezione di Gesù più difficile invece è operare quando non avvertiamo sia pur in modo ordinario la presenza quando ci sentiamo aridi quando ci sentiamo stanchi quando ci sentiamo affaticati provati eccetera eppure questo è ciò a cui dobbiamo tendere e questo se da un lato è grazia grande da parte del Signore dall'altro però deve essere anche per quanto possiamo perché essendo grazia grande speciale ed efficace non ci arriveremo se il Signore non ci aiuta però possiamo disporci e comunque dobbiamo provarci il resto lo lasciamo fare a Gesù ricordando il famoso adagio di Sant'Ignazio di Loyola fai come se tutto dipendesse da te sapendo che niente dipende da te no? ecco poi abbiamo il grande exflua di Gesù che risponde appunto a un anelito di risa no? qual è il miglior modo per farmi nascere nel proprio cuore? ecco qua Natale viene in vano se Gesù non nasce nei cuori Gesù sulla terra è già nato certamente nel Natale si fa anzitutto festa e si dovrebbe fare grandissima festa per la nascita di Gesù non come spesso si vede una festa tanto per far festa diciamo dove Gesù diventa quando gli va bene l'occasione per fare una festa nel senso che almeno un pallido ricordo vago da qualche parte è rimasto e questo oggi già è qualcosa ma spesso è altro che mondanizzazione del Natale insomma come paventava ammonendoci Papa Francesco qui c'è di peggio qui c'è proprio il radere al suolo insomma il Natale è diventata una sorta di neo festa pagana insomma tipo quella del sol invictus perché qui tra riti profani e sotto tutti i punti di vista purtroppo in varie parti quanto meno della vecchia Europa di Natale ripeto c'è solo il fatto che i negozi stanno chiusi e si vanno grandi cene e pranzi ma per il resto è ben triste realtà non bisogna certamente turbarsi perché tutto avviene per permissione divina e tutto questo finirà certamente finirà però certamente ora è una fonte anche per la nostra preghiera ed anche per il nostro impegno insomma di provare come possiamo a consolare il cuore di Gesù che certamente non è contento insomma del del grande gelo un gelo veramente glaciale insomma che trova in molti cuori che ne hanno cancellato quasi anche il ricordo insomma no e non sempre involontariamente per coloro che desiderano invece accogliere bene Gesù Gesù dà delle indicazioni allora la prima cosa è vuotarsi di tutto questo l'abbiamo visto tante volte in queste meditazioni sui primi volumi vuotarsi di tutto significa distacco da tutto e da tutti e significa anche taglio con tante cose che non sono necessarie che sono inutili Gesù nasce dove trova un ambiente vuoto non è un problema che quell'ambiente non sia eccezionale i nostri cuori purtroppo non sono molto dissimili dalla stalla di Betlemme sono poco ospitali maleodoranti maldisposti questo non fa niente poi ci pensa Gesù con la sua presenza sistemare le cose e certamente devono essere vuoti ci sono tante altre cose pensiamo appunto a chi fa il Natale dopo una marea di corse all'impazzata di esaurimenti vari con regali su regali pranzi cene e magari non ha trovato neanche quei famosi benedetti dieci minuti di silenzio preferibilmente davanti al presepe per per dare spazio a festeggiare il festeggiato per creare appunto un clima di accoglienza nel proprio cuore il tasso della presenza di Gesù è appunto proporzionato a a questo grado di spoliazione di santa spoliazione ecco che facciamo nel nostro la nostra anima la seconda è che quindi potremmo dire la prima è vuoti di tutto e pieni solo di Gesù la seconda è tutto per Gesù tutto deve essere fatto per me dice il Signore tutto deve servire per onorarmi per seguire i miei ordini fino a diventare veramente in tutto tutto incluso una sola cosa incluso un solo pensiero inclusa una sola parola tutto per lui e infine l'eroismo nell'amore quindi tutto di Gesù tutto per Gesù e tutto ciò che è grande per Gesù non avere paura di inoltrarsi sulle vie dell'eroismo sulle vie dell'amore grande sulle vie del sacrificio per attestare Gesù il nostro amore il nostro amore di predilezione il nostro amore per noi e per tutti il nostro amore che lo ama per tutti il nostro amore che anche ripara per tutti e il nostro amore che per quanto può fa in modo che tutti lo amino quando Gesù dice lo ingrandiranno la nostra felicità per fare che non solo essa ma anche gli altri mi amassero e tutto si sopporta per l'amore di Gesù non gerà sopportare qualunque cosa anche la stessa morte la carità tutto sopporta diceva San Paolo questo lo vediamo per cui vedete il sacrificio l'eroismo la pazienza dipendono dal tasso d'amore perché quando una persona ama è tutto leggero può essere anche una cosa che mi costa immenso sacrificio ma se me la chiede la persona amata non solo che diventa leggera ma la faccio volentieri perché è un'occasione per attestare quanto si ama la persona amata e dentro un orizzonte di amore questo produce semplicemente gioia perché sa che la persona amata vedendo quella tale grande attestazione d'amore sarà felice e la carità gode della felicità dell'amato cioè quando un'anima ama Gesù non agisce più perché sa tra l'altro che più ama Gesù e più Gesù lo ama e quindi più lei sarà contenta no? ma la contentezza personale diventa accidentale perché l'anima agisce per fare contento Gesù e si rallegra della sua gioia anche qualora cosa che non è possibile ma queste sono le disposizioni del cuore fosse contento solo lui e non anche chi ha fatto grandi sacrifici d'amore per lui questa è la logica dell'amore Gesù cerca questo amore dalle anime e da tutte le anime teniamo sempre presente che quando Gesù parla a un'anima è evidente che tutte quante le cose vanno vissute con tempi forme in modi distinti a seconda degli stati di vita che una persona vive questo è ci si arriva ecco ma la sostanza non possiamo pensare che sia riservata ad alcuni e non a tutti la sostanza è riservata a tutti coloro che in maniera ordinata proporzionata e conforme allo stato di vita doveri che hanno quindi al tempo e a tante altre cose creano queste disposizioni interiori per Gesù quindi tutto di Gesù tutto per Gesù e le cose più grandi più dolorose più impegnative per Gesù fino a non escludere nulla ecco la silenzia davanti al presepe noi potremmo provare a vedere se siamo capaci a dire a Gesù bene tu ti sei dato tutto a me senza risparmiarti nulla in una situazione di estrema povertà e disagio io potrei dirti in verità nel segreto del cuore che tu conosci dove non c'è possibilità di inganno io mi do tutto a te qualunque cosa tu mi chieda io ho l'aiuto della tua grazia non te la rifiuterò volentieri la farò forse anche il più grande sacrificio è quello che mi costa al solo pensiero più dolore di tutti questo sarebbe un gran regalo noi gli uomini mondani sono molto preoccupati di tanti regali l'argomento regali è un argomento complesso che certamente andrebbe affrontato ciascuno deve farlo nella propria coscienza ma qui l'unico festeggiato colui a cui bisognerebbe portare tanti regali è Gesù bambino i regali che si portano Gesù non costano sterco di Satana Gesù non vuole regali materiali Gesù vuole come regali i nostri animi i nostri cuori e quindi anche se una persona magari per certe circostanze non può esimersi per ragioni insomma di opportunità non può esimersi completamente ma certo deve farlo con un certo stile ecco dalla dalla ritualità dei doni natalizi ecco quello che certamente può e coscienza dovrebbe sentire di fare fare il regalo più bello e più grande al festeggiato con la F maiusco che è appunto Gesù e che appunto vuole le nostre anime i nostri cuori ecco poi abbiamo questa scena tipicamente natalizia rappresentata in maniera sovente ardita ecco dagli artisti c'è la famosa Lactazio Maria la Vergine del Latte quindi la Madonna generalmente con uno dei segni scoperti senza e si vede proprio la bocca di Gesù attaccata al seno di Maria la bocca di Gesù bambino nell'atto ecco proprio di ricevere il latte materno no? e questo gesto che è un gesto diciamo così intimissimo e che Gesù ha vissuto nei confronti della Madonna senza nessun nessuna remola nessuna difficoltà anzi traendone come ci spiega non soltanto l'estremo godimento ecco del del latte materno ma soprattutto attraverso quel latte purissimo Gesù si nutriva succhiava l'amore del cuore della Madonna e ogni stilla di latte che entrava nella sua bocca sentiva il ti amo ineffabile e ardentissimo di Maria Santissima e quindi questo questo gesto ecco tipicamente infantile tipico dei neonati diventava una gara d'amore un fuoco d'amore finito l'allattamento insomma probabilmente stavano entrambi probabilmente senza nessun dubbio ecco ricolmati di amore no? dire ti amo a Gesù proprio dirglielo non serve dirlo ad alta voce basta dirlo col pensiero ma dirlo col cuore però non dirlo tanto per dire è un gesto di enormemente santificante no? vita nella divina volontà tante volte non tante volte girare in giri nella divina volontà si fanno moltiplicando i ti amo e andando a cercare appunto gli atti della divina volontà perché i nostri ti amo possano tornare ipermoltiplicati insomma il nostro Signore li possa sentire non soltanto dalla nostra anima ma dalla creazione dalle cose dalle realtà addirittura dai cuori di quelli che ci odiano quindi è un moltiplicare nell'amore per amore i ti amo e moltiplicare anche la ricezione degli innumerevoli ti amo di Dio questa è la vita di cielo no? questa è è il tornare davvero nella condizione primordiale dei nostri progenitori che la vita cristiana secondo me va proprio all'osso non è altro che vita di amore si vive di amore di Dio e si vive di amore per Dio e si vive di amore per il prossimo e basta ecco certo tutto questo ci vuole poco a dirlo ci vuole molto a viverlo ecco e in questo senso che possa davvero essere questo Natale un santo Natale per tutti e per ciascuno bene Santa Vergine ci rinchiudiamo tutti nel tuo cuore per apprendere da te l'arte di accogliere tutto l'amore sapendolo riconoscere che Gesù ci offre e di saperlo in tutto ricambiare dando questa gioia a Gesù e anche soprattutto questo grandissimo bene e questo grandissimo onore a ciascuno di noi ripetendo e moltiplicando i nostri ti amo a lui e anche a te che certamente come dice la Chiesa in maniera dipendente e subordinata ma non sei certamente indegna del nostro amore anzi sei degna profondamente in quanto nostra madre nostra maestra ma anche l'unica creatura che ha fatto vivere ininterrottamente dal concepimento fino all'assunzione il dono della divina volontà ogni volta che un figlio ti si rivolge sempre ci porti sempre più e sempre meglio a Gesù non solo non ostacolando ma facilitando al massimo il nostro rapporto con lui nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amo Fiat Ave Maria